I carabinieri di Baiano indagano sull'incendio che la scorsa notte ha interessato un'auto e parte di un'abitazione in via Santa Croce ad Avella. Poco dopo le due vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sul posto per domare le fiamme, che hanno completamente distrutto una station wagon parcheggiata sotto le finestre di un appartamento, i cui locali a piano terra sono stati danneggiati dalle fiamme e dal fumo nero che si è sprigionato dalla macchina, da dove è partito il rugo, completamente annerita la facciata dell'immobile. In casa, al momento dell'incendio, c'era un'intera famiglia, marito, moglie e due bambini piccoli. Tutti, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare alcuna grave conseguenza. L'episodio avvenuto a pochi passi da piazza a municipio ha svegliato i residenti dell'intera zona, creando panico tra i cittadini. Sull'incendio stanno indagando i carabinieri per accertare le cause del rugo. Non si esclude che possa trattarsi di un incendio di origine delusa. Grazie. 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 Grazie.